Consumer Lab sostanzialmente è nato nel 2004, quindi oramai sono tantissimi anni che abbiamo instaurato questa profica collaborazione proprio perché noi riteniamo che gli obiettivi dell'Associazione dei consumatori e della banca, del gruppo Montepaschi, siano comuni, che è quello di, da un lato, di difendere legittimamente i consumatori, dall'altro noi di avere dei clienti soddisfatti. Quindi sostanzialmente mettiamo in piedi dei progetti che vanno dall'istruzione alla formazione, come in questo caso Consumer Lab a casa vostra, presentiamo l'iniziativa di quest'anno che è basata sul tema della previdenza complementare, che in effetti è un problema sottovalutato in Italia perché i nostri giovani, ma anche i meno giovani, si troveranno in difficoltà nel momento in cui andranno in pensione se non ci pensano adesso. Questa iniziativa è molto importante perché mette in evidenza questa collaborazione che si viene a creare tra un istituto bancario di un certo rilievo, di una certa importanza e un'associazione dei consumatori. Quindi è molto importante il segno di trasparenza e di collaborazione che si creano tra queste due grosse istituzioni, anche perché i consumatori che noi rappresentiamo sono allo stesso tempo anche clienti delle banche, per cui per noi è un segno di collaborazione importante da portare avanti e speriamo che ci siano anche altri istituti bancari che seguano l'esempio di Monte dei Paschi.